Breve visione della costa del Palio da sopra il rifugio Resegone. Il tempo non è bellissimo, lì si vede Fulpiano che potete vedere nello splendore dei suoi grattacieli insomma. Dietro Fulpiano lo skyline delle valli e là in fondo il baitello che c'è dopo il Resegone e poi le bandiere del Resegone. Giornata discreta è sabato 7 settembre sono le ore 12 e un quarto. I gittanti gioiosi vi salutano felici prima di andare a pranzo e poi vedrete dopo pranzo come saremo molto più contenti. Alleghere, alleghere e buon appetito!